Per me oggi è un giorno triste, perché se n'è andato il mio amico Maurizio. In tutti questi anni, Maurizio mi ha lasciato, ci ha lasciato, un sapere che si tramutava sempre in una visione che era sì quella di tutti i giorni, ma che era sempre altrove. Maurizio adorava la parola altrove. Anni fa una trasmissione, Buona Domenica, condotta da lui, aveva trovato uno spazio per questa parola, altrove. Sto bene soltanto quando riesco a immaginare, a fantasticare, a essere altrove. La malinconia. Parlava spesso della sua malinconia. Ma forse non sapeva, io glielo dicevo sempre, che quella malinconia nascondeva o lo proteggeva ad una velocità della mente troppo rapida, dal vedere oltre, dal trasformare un'idea in praticità. Aveva dentro di sé la psicologia del fulmine, del baleno, un lampo di luce e poi le cose si facevano. Negli ultimi anni facevamo una trasmissione alla radio e una volta alla settimana lui aveva inventato la rubrica via d'uscita, perché avevo scritto un libro tempo fa con questo titolo, e non c'era volta in cui lui non si soffermasse sul trasformare dei concetti psicologici in consigli pratici. Non dovete avere paura delle cose di voi che non vi piacciono. Morelli è giusto? Dobbiamo accettare anche le nostre ombre, certo. e riusciva, come nessuno, a rassicurare. Viveva, come tutti i grandi uomini, con le sue caratteristiche. Con le sue caratteristiche. Una volta mi ha detto «No, Morelli, io non sono un grande uomo, perché tu hai scritto che i grandi uomini hanno un brutto carattere». Dico «Allora sei veramente un grande uomo». Ecco, il suo carattere. Guardatelo in tutte le trasmissioni che ha fatto. Non ha mai fatto una volta, una volta, una posizione di accondiscendenza. Se aveva qualcosa da dire, la diceva. Chiunque fosse, re, monarchi, religiosi. E posso dire che in tanti anni che l'ho frequentato, non c'è stata una volta che mi abbia detto «Questa cosa era meglio non dirla». Una volta. Maurizio che esprimesse idee che fossero lontane da una visione comune, da un'opinione corrente, che potevano suscitare polemiche, come molte volte le hanno suscitate. Maurizio non mi ha detto una volta «Era meglio non farlo». Non me l'ha detto una volta. aveva un senso di libertà profonda dentro una mente molto tradizionale. Era un uomo libero, una grande apertura, ma anche molto tradizionale. la certezza di ritrovare sempre le nostre radici. Maurizio, forse molti lo dimenticano, ha creato realtà che hanno salvato vite umane. pensate soltanto alla sua battaglia per il casco. Tutti pensavano che si sarebbe stancato. Maurizio non si stancava. Andava fino in fondo. Era quell'andare fino in fondo. quel materializzare, quel creare. Una volta mi ha detto «Ma chissà perché io ingrasso». E gli ha detto «Maurizio, perché la tua mente è troppo veloce, allora il corpo ti ferma pesantendosi». No, questa è una teoria che gliela dirò al nutrizionista. Era sempre pronto al nuovo, sempre pronto al nuovo. I suoi collaboratori, che lo amavano, erano spaventati dalle sue idee nuove, perché rispetto ad altri che hanno idee, lui le realizzava. Mi ricordo una volta, l'ho detto anche altre volte, andrei a trovarlo a Roma, e mi ha detto «Sero Ferri, cosa faccio?» «No, cosa fai Maurizio? Faccio un musical». Mi ha detto «Come un musical?» Non aveva mai fatto un musical. «Sì, sì, faccio un musical». Dopo mezz'ora vedo arrivare Alex Britti. Mi dice «Guarda Alex, dovresti mettermi giù una serie di canzoni, di musical e questo?» Aveva già visto tutto il musical. Io pensavo che, era poco prima dell'estate, pensavo che fosse così, un'idea. Non lo conoscevo così bene. A novembre il musical, coinvolgendo i ballerini, i cantanti di Maria, eccetera, era realizzato a Teatro Nazionale di Milano. E gli ho detto «Ma non vai a rivederlo?» «Ma non serve perché tanto serve, ormai è fatto». Era quando l'idea si materializzava, lui sapeva andare oltre. E questo grande giornalista ha lasciato insegnamenti per tutti. Per tutti. Ricordo tanto tempo fa che voleva che scrivessi dei libretti da allegare a Donna Moderna. erano i tempi in cui nasceva il grande fratello, le prime trasmissioni di quel tipo. raccontava con una naturalezza che quando le televisioni si affidavano a programmi studiati da autori lontani, come accadeva per tante trasmissioni, diceva «Ma sai, si finirà per seguire dei format, si perderanno gli autori, si perderà la vivacità, la vitalità, ci spegneremo dentro i format». E così è stato. E così è stato. Maurizio, a parte che mi hai insegnato come stare in televisione, perché lui mi diceva «Guarda che se sei in televisione e stai parlando, i cameraman non sono talmente assorti da quello che dici, o stanno parlando fra loro, vuol dire che se stanno parlando fra loro, vuol dire che non interessa. Se sono assorti, vuol dire che quello che dici, colpisce. E io questa cosa l'ho portata con me, perché molte volte in tante trasmissioni vedevo che il chiacchiericcio, dicevo «Ma stai dicendo delle banalità». Ma quando invece c'era quel silenzio, quell'atmosfera, mi ricordavo Maurizio che mi diceva «La senti quell'atmosfera? Devi palpare quella energia del silenzio, perché vuol dire che sta entrando dentro le persone». Ricordo che Alparioli, quando faceva il Costanzo Show, ricordo che lui aveva una capacità, collegata ai suoi registi, per cui vedeva in una persona quello da intervistare. conosceva i volti come nessuno, riconosceva nei volti le tendenze. E la gente che intervistava, guardate magari le trasmissioni, se vi capita, nel passato, diceva «Ah, lei è portato per questa cosa, lei per quest'altra cosa, e mi diceva «Maurizio, sei un grande psicologo!»» «No, no, no!» «Era semplice Maurizio!» Quando gli dicevo che Jung diceva che la semplicità è la cosa più preziosa della vita, sapesse come è difficile essere semplice, «No, a me no, perché mai viene naturale!» «E' misterioso!» Maurizio non parlava mai di sé. Sì, raccontava delle cose, ma era un uomo che sapeva mantenere la segretezza. I grandi uomini sono sempre segreti. Sanno che si perde tempo a parlare delle proprie azioni. E quindi, vedeva oltre. E quella malinconia, raccontava come racconta tutti gli uomini, no? La notte cosmica che ci aspetta. Raccontava negli ultimi tempi che era diventato molto più sensibile a certi ricordi. Cioè, non c'è trasmissione che inizia in cui io non saluti mio padre che non c'è più. Faceva come gli antichi romani, che chiamavano gli antenati a vegliare su di loro. Ecco, questa grandezza, questo rispetto del carattere, questa semplicità, questa curiosità. Non ho conosciuto mai nessuno così curioso come Maurizio. un giorno c'era il Dalai Lama e mi ha detto scrivi qualche parola per l'intervista al Dalai Lama, no? E la fece così sua e poi aggiunse naturalmente del suo come sempre, il Dalai Lama restò molto colpito. E gli diceva lei ha una mente molto profonda. E Maurizio con le sue battute mangiava. Ammazzo, anche il Dalai Lama mi ha detto che sono profondo. Era il maestro dell'ironia. Sapeva come nessuno al mondo che tutto ciò che è vero oggi non lo sarà più domani e forse neanche dopo domani verrà ricordato. E quindi c'era sempre una battuta che scendeva sui drammi e spolverava l'orgoglio dei forti, dei ricchi, dei potenti. ricorda una volta in una trasmissione che incominciò a ridere perché c'era uno che parlava di matematica non si capiva niente obiettivamente noi non eravamo all'altezza. Lui non capiva io non capivo abbiamo incominciato a ridere a ridere non ci fermavamo più no? E te ci capisci di cui io no? Ma neanche io. Abbiamo piaciuto a ridere. Quindi aveva quel dono di quella spontaneità di quella naturalezza di quella battuta e anche di quella capacità di essere altrove di guardare oltre. non ti saresti mai aspettato dopo un colloquio con lui che tutto quello che era stato detto era già stato valutato guardato e riportato poi in un'azione. Sai ho pensato Raffaele vorrei fare una trasmissione dove coinvolgerti la mattina ah la mattina sì sai come la chiamo tutte le mattine ah guarda fai una cosa tu vieni due mattine a settimana a Roma e le altre tre le facciamo un collegamento e così è stato per due anni è andato avanti così la sua forza era quella di credere in quello che faceva sono contento di una cosa che ha potuto lavorare fino agli ultimi giorni della sua vita pochi uomini sono capaci di seguire la loro passione fino all'ultimo lui lo sapeva una volta diceva mi piacerebbe morire nel teatro in cui lavoro mentre cala il sipario e quando gli scendeva la malinconia io sapevo che quella malinconia veniva a trovarlo per dirgli a zero tutto e riparti con cose nuove Maurizio era l'uomo di cose nuove auguro a Maurizio di essere nel luogo in cui possa veramente sentire la pace la tranquillità la gioia che l'ha accompagnato per tutta la vita ciao Maurizio ciao Maurizio grazie a tutti